That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, to the Republic of Kenya. Uru Kenyatta ha giurato per il suo secondo mandato alla presidenza del Kenya. La cerimonia di insediamento si è tenuta allo stadio Casarani di Nairobi davanti a circa 60.000 persone, tra cui molti capi di stato e di governo africani. Il presidente è stato confermato alla guida del paese con il 98% dei voti, a fronte di un'affluenza del 39% degli aventi diritto. Le presidenziali sono state ripetute a ottobre, dopo che la Corte Suprema aveva annullato l'esito del voto dell'8 agosto per irregolarità. Poco prima del giuramento, per le strade di Nairobi, ci sono stati scontri tra la polizia keniana e i manifestanti pro e contro Kenyatta. Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i cortei. Da una parte hanno cercato di impedire ai sostenitori dell'opposizione di tenere un raduno nella capitale, scatenando scontri, mentre i sostenitori di Kenyatta sono stati bloccati dalla polizia nel tentativo di entrare nello stadio Casarani, dove il presidente stava giurando.